Si chiama Shanae Norris, ha 22 anni d'età, è una giovane ragazza e si troverebbe in condizioni davvero molto gravi dopo un brutto incidente che si sarebbe verificato nella provincia del Gauteng in Sudafrica. Stava viaggiando con la piccola Reni, la bimba sarebbe morta sul colpo, la mamma ancora non lo sa e la famiglia vorrebbe aspettare che si stabilisse la sua condizione fisica prima di darle la triste notizia, la triste novella. Una storia incredibile è quella che ci perviene dal Sudafrica, ripeto, in cui abbiamo questo schianto in auto con la figlia di un anno, la bimba è morta sul colpo, mentre la mamma notta tra la vita e la morte, ripeto, la mamma si chiama Shanae Norris. E a chi chiede, ma è stata avvisata la mamma? Le persone rispondono, ancora non abbiamo informato la mamma di questa morte. Una storia davvero incredibile, una storia incredibile, allucinante, che veramente ci fa riflettere, ci fa capire di quanto a volte sia triste l'esistenza umana. Grazie, cordiali saluti a voi tutti, un caro saluto e un caro saluto da parte mia grazie.